Nuovo attacco da parte di un ex volto del talent show che spiega il suo punto di vista sul ruolo degli insegnanti nella scuola. Nuovo attacco ad amici di Maria De Filippi, stavolta contro i professori e in particolare due di loro. A parlare è stato ancora una volta Luca Yurman, che a sua volta è stato un insegnante di amici nelle prime edizioni. Negli ultimi anni, Yurman, è spesso protagonista di polemiche sulla scuola di amici. Oggi si è scagliato contro la presenza di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nel ruolo di professori di canto, nonostante siano, o siano stati, suoi amici. L'occasione dell'intervista a Nuovo TV è stata l'accusa precedente sul cantare in playback da parte degli allievi di canto, una polemica affrontata e superata. Quando gli hanno fatto notare che i prof di canto in questo caso Zerbi, Cuccarini e Arisa difendono i loro allievi che utilizzano i moderni strumenti per cantare, lui ha replicato così, il problema è che hanno un titolo che non spetta loro. Quindi ha spiegato che Lorella Cuccarini è stata una sua allieva e sono molto amici. Anche con Rudy c'era un'amicizia ma non ci sarebbe più. Siamo stati amici prima che cambiasse per la sua voglia di esposizione mediatica. Questo non lo ha affermato dal bocciarli come insegnanti di canto ad amici. Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto. Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l'esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento, e si deve soprattutto insegnare come gestirlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.